Splendido orologio, prezzo folle. Via con la sigla. Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo video parliamo di una novità che è piccola, ma che ci dà l'occasione di parlare di un orologio raro, cioè di uno di quei rari orologi che hanno la suoneria al passaggio. Non è la grande petite suoneria, si tratta della sai più umile, infinitamente meno complessa meccanicamente, suoneria a passaggio alle ore soltanto. Quindi alle ore soltanto suona un colpo solo, qualunque sia l'ora, quindi non c'è neanche un meccanismo che conteggia le ore trascorse, ma c'è semplicemente un colpo solo. Allora Soparda ha con la collezione Luca, ha una lunga tradizione in questo tipo di suoneria, perché il primo orologio io lo stavo anche per acquistare, lo Strike One del 2006. Verso il 2009 me ne ero quasi innamorato e andai alla boutique di Sopar per provarlo, che avevano un esemplare. Era comunque un orologio molto raro, perché poi nessuno, a parte pochi pazzi come me, sapeva cosa fosse una suoneria al passaggio, oppure fossi in grado di apprezzarla. Ed era comunque un bello orologio venduto tra l'altro a un prezzo basso, strepitoso. Poi anche a Sopar i tempi sono cambiati. Dopo quello c'è stato l'esploi nel 2016 del full strike, minute repeater, quindi poi una ripetizione minuti, quindi tutt'altro meccanismo infinitamente più complesso, due gong eccetera eccetera, pieno di innovazioni, perché c'è il calibro look con i gong che sono in cristallo, in pezzo unico in cristallo e attaccati al vetro della cassa, quindi al vetro del quadrante, quindi non attaccati al calibro come classicamente avviene sulle ripetizioni minuti. E questo per garantire un suono più forte, anche Gerger Lecutre ha fatto cose simili eccetera, non sono i primi a farlo. Però quella era una ripetizione minuti che ha vinto anche un premio, mi sembra importante, al Grand Prix dell'orologeria di Ginevra, con prezzo conseguente. Poi abbiamo avuto nel 2022 il rilancio dello strike one e lì c'è un calibro tutto nuovo, il 9632L, mi sembra che si chiami, Luca, con la caratteristica meccanica di avere il tasto che attiva o disattiva la suoneria al passaggio, qua si ha la corona, invece nel modello del 2006 era ore 10. E questo è un passo avanti. Calibro 9632L con due bariletti, 68 ore di riserva ricarica, certificato COSC, col punzone di Ginevra. Molto rifinito a vederlo in tutte le sue parti, ma non credo che abbia finiture manuali. Comunque il punzone di Ginevra sicuramente assicura un certo standard oggi rispetto al passato, ma non le finiture appunto manuali. E qui non si capisce se ci sono meno, io credo di no, perché neanche la casa le evidenzia, quindi direi di no. E adesso arriva questa versione che ha lo stesso calibro, ma un quadrante verde, una cassa in oro bianco e la trovo molto gradevole. 40 mm di diametro per 10 di spessore, quindi sono dimensioni assolutamente accettabili per un orologio che comunque ha una complicazione importante. Ricordatevi che le complicazioni sonore hanno bisogno di una cassa grande per avere un suono di una certa qualità. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccolo qui, questa edizione di 25 pezzi di mitata con cassa in oro bianco etico. Sapete che Chopard garantisce la provenienza etica dell'oro bianco, dell'oro e dei metalli preziosi, è stata la prima a farlo. Un orologio elegante con un bel quadrante verde che ha questo motivo centrale a nido d'ape, che comunque non sembra una finitura manuale. Sfere rodeate a Dauphin, indici molto eleganti e abbiamo a ore 0.30, diciamo, il martello lucidato a specchio, come deve essere, che appunto batte il gong in cristallo. Tra l'altro lì si vede se la soneria è attivata o meno, perché se è attivata la posizione del martello cambia, si carica, no? Pronta a colpire il gong. Qui state vedendo intanto il calibro che sia sopra sia sotto presenta finiture curate, di cui però non riesco a valutare la manualità, probabilmente manuale la lucidatura a specchio del martelletto, ma non credo che ci sia altro. Comunque sono belle, sono finiture che appaiono belle e curate. Certo, è un bel calibro, ben rifinito, ma ripeto, non so con quanta manualità la casa non sembra dichiararlo, quindi presumo che sia più industriale che manuale. Belle finiture, micro rotore, due bariletti, certificazione COSC, che come sapete vale zero oggi, e quello non vale zero, il punzone di Ginevra riformato. E quello è già una cosa più seria. Finiture sicuramente curate, ma il problema qui, signori, è che questo orologio costa 75.000 euro. No, avete capito bene? 75.000 euro. Allora, fermi tutti? Prima considerazione. Quando lo valutai io, la versione del 2006, nel 2009, nella boutique a Roma, in via del Babuino, dove furono gentilissimi, credo che fosse un orologio che stava entro i 20.000 euro, se non ricordo male. Ma oggi 75.000 euro? Avete presente il Christopher Ward Belcanto, che è stato premiato all'ultima edizione del Gran Pidolo di Ginevra, meccanicamente stessa funzione, probabilmente suonerà peggio, calibro sicuramente non di manifattura, calibro sicuramente non così prezioso, senza la curva Philips della spirale del bilanciere, senza certificato di cronometria e senza punzoni di Ginevra, ma 4.000 euro. E' tratto con un'estetica ancora più originale, con tutti i rischi del caso, ma a me è piaciuta anche l'estetica del Belcanto. Qui siamo su un altro livello di orologeria, non ci piove, dimensioni giuste, però 75.000 euro. Io per una suoneria al passaggio con un colpo solo non li spenderei. Detto questo, l'orologio è bello e quando c'è una complicazione sonora comunque di un certo livello mi piace sempre parlare, perché rimangono comunque orologi rari. Poi questa è la più semplice di tutte delle suonerie nobili, la più semplice di tutte. quindi è appena sopra lo svegliarino, diciamo, che è una suoneria al passaggio ma con l'ora impostabile. Ma insomma, comunque, così è. Questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto, al prossimo video. Ciao!